L'esercizio che andiamo a fare adesso è la plank. Allora, le mani sotto all'altezza delle spalle, spingi bene con i palmi delle mani a terra, gluteo chiuso, vai stai un pochino più su con l'addome marina, come si, perfetto. Portiamo il ginocchio opposto al gomito, opposto, facendo una torsione. No, su, 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 portalo su a toccare il gomito. Ah, ok. Sì? Sì, bravissima, guarda davanti a te, mantieni sempre l'addome basso, un pochino più basso. Sono tosta. Vai, 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 l'aria, inspira, vai, tocca, espira, inspira ancora.